Benvenuto Mario Mauro all'abitacolo di oggi. Mario Mauro che era ministro della difesa fino a pochi giorni fa, poi che è accaduto? È accaduto e c'è stato il cambio, la guida del governo, un cambio indotto dal segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Quando è che ha saputo che non era più ministro della difesa? Perché poi la maggioranza è rimasta più o meno la stessa di prima. In realtà l'ho saputo dalla lettura della lista del... Ah quindi non hai ricevuto una telefonata di Renzi prima come è capitato alla Bonino? No, nessuna telefonata. Nel caso della difesa a prendere il mio posto è una cara collega, la sottosegretaria Pinotti che per appunto nel ruolo di sottosegretaria ha ballato tutta la linea politica espressa da quel di Castero durante questi mesi. Punto interrogativo vero è che infatti questa maggioranza politica oggi è la stessa ma a questa maggioranza politica si è aggiunta una doppia maggioranza, guarda caso la doppia maggioranza sul profilo istituzionale da fare. Il problema di questa legge elettorale è che la legge elettorale non deve solo garantire un vincente, deve garantire anche la rappresentanza. Quindi non è sbagliata la legge quando tente a ridurre la presenza dei piccoli partiti. È detto da uno che esprime un piccolo partito penso che abbia un certo valore questa affermazione. È sbagliata in un altro punto invece, è sbagliato quando con pochi voti dà tutto il potere a chi si aggiudica uno stratosferico premio di maggioranza. Perché è sbagliata? Intanto perché ad oggi la realtà plurale della politica italiana è almeno robustamente tripolare. Quindi concegnare le linee del campo da gioco e le regole del gioco in modo tale che a uno sia sempre negata la possibilità di vincere è sbagliato, è una ferita per la democrazia. Io non sono del Movimento 5 Stelle, non condivido nulla di ciò che pensa e che ha originato il fenomeno del Movimento 5 Stelle, ma la democrazia è la democrazia e quindi la scienza va offerta a tutti. Io ho fatto dieci mesi, starei per dire in apnea, quindi arrivando al Ministero sempre verso le 7 meno un quarto del mattino e non lasciandolo mai prima dell'ora tarda e poi a questo sono aggiunti evidentemente tutti i doveri di una rappresentanza in un settore, quello della politica di difesa che è anche parte integrante dell'aspetto di politica estera che sicuramente ha conosciuto giorni straordinariamente drammatici negli scorsi dieci mesi. Penso fra tutti alla vicenda siriana, alla vicenda dei nostri Marò, alla vicenda... Ecco, proprio quella, però era una preoccupazione perché si è detto cambiare il Ministro della Difesa e il Ministro degli Estri in un momento un po' delicato per quella vicenda, quando eravate in questo momento in campo tutti e due... Ma in questo momento io penso che sia importante garantire una postura politica, cioè una posizione politica che sia di continuità, perché che cosa è avvenuto in questi dieci mesi? Pensiamoci bene, si è internazionalizzato il caso, cosa che non è avvenuto col governo precedente? Noi non accettiamo la giurisdizione indiana su questo caso, perché quindi l'aspetto veramente fragile che c'è stato in precedenza è averlo lasciato pensare. Devono tornare a casa, devono tornare a casa e stare a casa e seguire lo svolgersi delle indagini da fare in Italia e quelle che l'India vorrà continuare a fare a casa loro da uomini liberi, da uomini onesti che non hanno fatto niente di male. Adesso ce lo possiamo dire, non è più un Ministro della Difesa, ma quella storia degli F-35 era così intoccabile? O qualcuno si può anche non acquistare e avere un po' di risparmio da spendere per emergenze degli italiani? Intanto F-35 è una parola di sinistra, diciamocelo a dire, F-35 è un'espressione che nasce con il governo Prodi prima e D'Alema poi, fin dall'inizio ho detto che sarebbe stato il Paese nel rapporto tra l'istituzione, governo e Parlamento a verificare quanti, dove, come attraverso strumenti che ci sono già, non solo nella nostra Costituzione ma nella riforma che io ho fatto, la legge 244, quindi ci sono tutte le condizioni perché si possa affrontare con serenità. Questo come altri temi legati alle dotazioni di armamento. Il problema vero però è un altro, è capire se le risorse che si risparmiano nel settore della difesa debbano essere o meno reinvestite nella difesa. L'Italia che ha fatto taglia al proprio bilancio della difesa per il 19% negli ultimi dieci anni, si può permettere con questa situazione di contesto del Mediterraneo di essere un Paese indifeso? Tutto qua. Un'ultima cosa, visto che siamo arrivati a destinazione, ma le si fida di Renzi? Io ho votato la fiducia, questo vuol dire che mi fido. Dare fiducia a Renzi e al suo governo vuol dire però voler entrare nel merito. D'accordissimo per esempio sul fatto che sia la scuola il punto di partenza per nuovi investimenti. Siamo disposti a ribaltare per una scommessa di fiducia, i pregiudizi ideologici e fare in modo che il contesto educativo italiano sia definito da un procedere più virtuoso nel rapporto tra Stato e privati. Che ci sia spazio per la libera iniziativa delle famiglie, delle cooperative sociali, di tutti coloro che credono nell'educazione. Queste sono scommesse che sono nel merito, non sono nei titoli di ciò che ha detto Renzi. Quindi sì ai titoli e nel merito saremo in Parlamento perché facendo parte della maggioranza cercheremo di contribuire con le nostre idee, con le idee che abbiamo proposto durante la consultazione. Grazie Mauro, buon lavoro.